Voglio farvi vedere un'edizione molto bella che mi ha mandato Rustblade Records di un film pazzesco, un film pazzesco. Non so che tipo di edizioni fossero uscite precedentemente, forse solo il DVD, però questa, questa, di cui adesso non ho più la scatola ma ho la plastica bolle per far finta di fare un unboxing. Questa edizione penso che sia memorabile, edizione appunto creata da Rustblade Records di cui anche un bellissimo adesivo adesso, anzi due adesivi, e anche un bigliettino carino dell'Amati. Come posso presentare questa cosa qua meravigliosa? Non lo so, ci vorrebbe una musica epica sotto per questa edizione di Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky. L'edizione la trovate in vari formati, la trovate sia DVD semplice sia Blu-ray semplice, quindi se volete semplicemente avere il film che si vede bene, prendete il Blu-ray, se non avete troppe pretese sulla qualità, prendete il DVD, però ecco, se volete solo il film, e il film è la cosa importante, c'è il Blu-ray. Poi si va a spendere un pochino di più per le varie edizioni che ci sono dopo, se volete, se siete collezionisti, professionisti, perché questa è un'edizione da professionisti. Minchia raga, minchia raga, finalmente uso questa telecamera come si deve. Et voilà, è uno slipcase, con dentro un booklet, un booklet, lo faccio per mettere a fuoco, e vabbè, e vabbè, un booklet, ovviamente io apro, cade tutto, cade in tutte le peccal. Raga, io non so che dire, a parte che conoscendo Stefano di persona, approfitto per dirgli che Stefano fa tutto lui, cioè fa tutto lui, insomma, compone lui tutta l'edizione, poi è chiaro che per alcune cose si farà aiutare, ma fa le grafiche, compone le grafiche, è una roba veramente pazzesca, mi piace molto come si presentano i dischi. È stupenda. È stupenda, ci sono i due dischi, e dentro, che appunto ho lasciato qua sotto, c'è questa meraviglia che tiene le cartoline. Questa meraviglia che tiene le cartoline, e le cartoline. Voilà. Voilà. E voilà. Questo è quello che c'è fuori, però voglio leggervi un attimo che cosa c'è dentro. Nuova versione restaurata, audio italiano-inglese, sottotitoli italiano-inglese, intervista a Alejandro Jodorowsky, intervista a Simon Boswell, intervista ad Angelo Iacono, intervista a Daniele Nannuzzi, intervista a Roberto Leoni, poi c'è Simon Bosley, Close Your Eyes Video, by Richard Stanley, per chi non lo sapesse, Richard Stanley è il regista di hardware, e del colore venuto dallo spazio, e approfondimento di Federico Frusciante, che conoscete, immagino. Questa è l'edizione, andate sul sito rasblade.com per scegliere quella che preferite, ce n'è anche una mega galattica, con i tarocchi, una col disco, insomma ce n'è per tutti i gusti, per cui decidete voi. Insomma, questo è tutto, insomma per l'unboxing di questa meraviglia. Ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti